Un piano di spopolamento e cattura dei cinghiali per contrastare la peste suina africana è l'impegno del commissario straordinario Vincenzo Caputo che ha incontrato oggi a Piacenza Expo le istituzioni e gli operatori del nostro territorio per confrontarsi sulla diffusione della malattia virale per suini e cinghiali selvatici. Nel caso delle due regioni, Emilia Romagna e Lombardia, che sono molto attenzionate, stiamo ponendo in essere una strategia per il depopolamento totale del cinghiale che rappresenta in questo momento il fattore di rischio principale per quanto riguarda questa malattia. Purtroppo la malattia è comparsa in diversi distretti europei e di proprio di questi giorni che anche nella vicina Croazia abbiamo avuto dei focolai. A livello locale le aree più a rischio sono i comuni di Zerba e Ottone nella parte a ovest del fiume Trebbia. La fascia di minore rischio, che rappresenta una sorta di cuscinetto nella quale prestare attenzione, comprende invece Cerignale, Ottone, Corte Brugnatella, Bobbio e Alta Valtidone. E purtroppo l'uomo, pur non viene colpito da questa malattia, ma ne rappresenta un diffusore attraverso vettore passivo, cioè attraverso i propri comportamenti può diffondere nell'ambiente questa malattia. Metteremo in piedi, anche alla luce dell'ultimo decreto legge, un piano di spopolamento e cattura che potrà fortemente migliorare le azioni di contrasto a questa malattia. Si rischia di aver perso troppo tempo? L'uomo ha perso la guerra contro i cinghiali? No, io credo assolutamente no. Come qualsiasi metapopolazione animale, il controllo spetta a noi. Se noi lavoriamo seriamente, possiamo in uno o due anni rimettere in equilibrio questa specie nell'ambiente. Il vertice è stato organizzato dal Consorzio Salumi DOP Piacentini, presenti le amministrazioni comunali delle aree più critiche, le associazioni di categoria, i rappresentanti della provincia e l'assessore regionale all'agricoltura Alessio Manni.